Morbidi peluche, decorazioni, accessori per la casa e cesti natalizi, i regali solidali tornano ad arricchire il Natale torinese, sostenendo i progetti locali e le attività di associazioni internazionali. Tra le tante iniziative spiccano il Christmas Shop dell'Associazione a Disco e quello della Fondazione Paideia, impegnati a raccogliere fondi per due importanti progetti benefici. Il ricavato sarà destinato alla costruzione di due stanze di logopedia del nuovo centro Paideia, un progetto ambizioso della Fondazione Paideia, una struttura che sarà dedicata alla riabilitazione e alla socializzazione e che vedrà la luce nel 2017 in via Moncalvo a Torino. Abbiamo cominciato a dare voce a questo nostro progetto dell'Hospice o l'Isola di Margherita come l'abbiamo voluto chiamare, che è un reparto che purtroppo è destinato a bambini che sono affetti da malattie incurabili. È il primo reparto di questo genere in Italia all'interno di un ospedale. Ad arricchire l'offerta dei regali, anche lo spazio natale di Emergency e i banchetti dei volontari di Medici Senza Frontiere nei punti vendita Feltrinelli, per un Natale 2015 all'insegna della solidarietà.